Affidati oggi i lavori del primo lotto per la riqualificazione del campo sportivo della frazione di Preturo con la realizzazione del manto sintetico. Entro tre mesi questi lavori, tempo permettendo, affidati alla ditta aquilana Circi Costruzioni, dovrebbero essere completati. Si tratta di un passaggio molto importante che restituirà un luogo di socialità alle due storiche società sportive di Preturo. I lavori costeranno circa 700 mila euro, fondi del PNR e comunali. Il secondo lotto riguarderà invece l'efficientamento energetico dei locali degli spogliatoi. La riqualificazione del campo si attendeva da anni. Dalla pandemia le società sono state costrette a giocare altrove. È una giornata importante per Preturo ma per tutto il comprensorio delle frazioni preturesi e dell'ala ovest della città. Come giustamente dicevi oggi vengono affidati i lavori per la realizzazione del manto sintetico, un'opera che aspettavamo dal 2009. Quindi dopo tanti anni finalmente le due società sportive che con tante difficoltà e con tanti sacrifici continuano interrottamente da 40 e da 20 anni a prestare questo servizio anche di natura sociale a favore tutta quella che è l'attività, l'amministrazione con i fatti dà una risposta importante. Oggi partiamo con il primo lotto che appunto riguarda la predisposizione del manto sintetico a cui saranno aggiunti oltre due lotti finanziati interamente con fondi comunali, quindi non solo con quelli del fondo PNR complementare per l'efficientamento energetico dello spogliatoio e la riqualificazione dell'intera area. Quanto costerà il tutto? Allora con la valere dei fondi PNR abbiamo uno stanziamento complessivo di 500 mila euro a cui poi verrà aggiunto l'adeguamento prezzi, mentre per il secondo e il terzo lotto ci saranno ulteriori 106 mila euro di fondi comunali.